È stato presentato lo studio di fattibilità economico-finanziaria di Toscana Stradi, la futura società in house regionale che gestirà direttamente la FIPILI, Arteria, che vede il transito di 50.000 auto al giorno. La principale novità è l'ipotesi di introduzione di un pedaggio per i mezzi pesanti, pedaggio che sarà circa il 70% rispetto a quello che viene pagato attualmente sulla Firenze Mare. Il pedaggio ipotizzato sarà di tipo aperto, dunque forfettario per lungo o breve periodo, senza l'installazione di caselli, ma con l'uso di transponder simili a quelli delle ZTL, un pedaggio insomma free flow. Il fatturato annuale di Toscana Strade, che mira alla semplificazione nella gestione economica e infrastrutturale della FIPILI, potrebbe essere inizialmente di 30 milioni di euro. Con le province, in particolare con la città metropolitana di Firenze, che attualmente gestisce la FIPILI tramite Global Service, sarà fatto un accordo relativo agli autovelox per una divisione al 50% degli introiti. noi possiamo produrre al Consiglio regionale quello che è la base, lo studio per il nuovo statuto, per il cronogramma e l'iter di realizzazione della società, che ci consentirà di passare alla fase operativa per Toscana Strade e S.P.A. Io ritengo che nasce anche in collaborazione e quindi in sinergia con quello che è la società autostrada, perché poi fondamentalmente Toscana Strade vuol diventare un po' questo, vuol diventare la società autostrada e la Toscana. Partendo nei primi periodi si concentrerà tutto sulla FIPILI. Le tempiste che noi abbiamo insieme in fase di elaborazione, la bozza è pronta, la legge istituttiva di Toscana Strade, perché dobbiamo modificare un paio di leggi regionali e il connesso statuto. Una volta approvata la legge, entro sei mesi gli ordini si dovranno costituire, organi snelli, perché è presivisto l'amministratore unico, l'assemblea con socio unico e un collegio dei revisori dei conti. Entro sei mesi la costituzione degli organi e l'amministratore unico da quel momento può iniziare a assumere il personale e una volta che ha adeguato personale entrare nelle proprie funzioni, che nella prima fase, quindi in questa fase di transizione, sarà entrare nel contratto di global service con AVR.